e la cosa incredibile è che da lì è partita tutta una serie di altre situazioni che coinvolgono Benzema, Bale, Contrao, tutti i giocatori del Real Madrid più gli ex, Ciabialonso, Mourinho che praticamente addirittura Contrao sembrerebbe da sei anni non abbia mai pagato le tasse in Spagna io vi ricordo che l'unico che è stato giudicato dalla giustizia spagnola è Leo Messi l'avete sicuramente letto tutti voi anche sulla stampa italiana addirittura veniva chiesto il carcere per lui e per suo padre Jorge sta di fatto che dopo queste enormi pressioni, queste campagne giornalistiche ripeto, sempre di giornali non riconducibili al Barça perché è normale che sui giornali catalani venne uscita la notizia ma è il mondo che sta portando avanti questa battaglia alla fine la magistratura di Madrid ha denunciato oggi Ciabialonso, Di Maria e Carvaio tutti i ex giocatori del Real Madrid ma su Cristiano Ronaldo e sugli attuali non pende nessuna al momento né denuncia né probabilmente indagine cosa molto strana viene imputato a Cristiano Ronaldo di aver portato 150 milioni di euro guadagnati in Spagna per diritti di immagine nelle isole della Virginia britannica paradisi fiscali a dire all'inizio si era parlato invece dell'Irlanda invece no perché per esempio in Italia c'è stato tra Valentino Rossi e Ezio Greggio ricorderemo erano tutte cose però riportate nelle isole britanniche cioè parliamo di Inghilte, Gran Bretagna e Irlanda invece qui parliamo proprio di un paradiso fiscale quello che è stato imputato a Messi ricordiamo che anche Mascherano è stato poi alla fine condannato ha dovuto chiedere scusa pubblicamente cioè sembrerebbe che ci sia un trattamento differente da parte della giustizia spagnola nei confronti del Real Madrid e ovviamente nei confronti dei giocatori del Barça questa è una cosa Stefano che continua a essere presente nella guerra culturale che c'è storicamente tra Barça e Madrid però sta di fatto e questa è una cosa scandalosa perché si è sempre parlato diciamo di un Messi che guadagnava soldi non pagando le tasse invece c'è anche Cristiano e anche altri importanti giocatori l'ultima cosa che è giusto ricordare a chi ci ascolta per onore di cronaca è quello che la magistratura di Madrid conferma la teoria del giudice appunto della giudiziazione di Madrid che proibisce ai mass media spagnoli di scrivere notizie sul famoso Football Leaks che è queste notizie che sono trapelate che ha cominciato a pubblicare il giornale Ter Spiegel giornale tedesco ecco altra cosa che fa strano insomma oggi nel 2016 che venga proibita una cosa di questo genere strano paese la Spagna strano paese insomma con delle garanzie democratiche abbastanza labili possiamo usare questo termine Stefano poi qualcuno qui nell'ultima settimana l'Italia si è divisa tra sì e no sono andati al voto però comunque ha vinto il no ma se avesse vinto il sì a mio modesto parere le garanzie democratiche in questo paese sarebbero rimasti la Spagna insomma vive una situazione storicamente abbastanza differente e lo stiamo vedendo anche con questa cosa che è importante anche perché parliamo di milioni di euro sottratti al fisco ecco e quindi questa mi sembrava giusto poi invece un'altra notizia sempre fonte spagnola praticamente il mondo deportivo ha dichiarato in anteprima che Cristiano Ronaldo vincerà il pallone d'oro esatto penso che ci siano pochi dubbi secondo me ma sì comunque ormai questo trofeo negli ultimi anni sempre di più viene dato viene consegnato comunque al giocatore più rappresentativo che vince di più un po' questa questo è un po' il light sì sì allora è ovvio che quest'anno il nome di Cristiano Ronaldo è quello più altisonante perché ha vinto Champions League europeo figurati anche se secondo me non so meriterebbe quest'anno Cristiano Ronaldo no perché comunque non ha inciso né nella finale Champions nonostante abbia segnato tanti gol prima esatto e poi soprattutto nell'europeo sì qualche guizzo pure qualche guizzo importante però di fatto non è che ha trascinato la vittoria a Portogallo Portogallo si è ripreso quella finale ha preso la coppa che non vinse a casa con la Grecia che magari meritava perché il calcio è talmente bello e vario esatto che permette insomma di ecco Cristiano Ronaldo ha segnato diversi gol ha fatto belle giocate però insomma non è stato secondo me l'anno migliore non è non è stato il migliore in quest'anno nel 2016 Cristiano Ronaldo esattamente allora prossimi appuntamenti beh ovviamente la partita del del Barça contro lo Sasuna allo stadio Sadar uno stadio che ricorda bei momenti ma anche brutte sconfitte contro lo Sasuna che è l'ultima squadra della della classifica in questo momento poi ci sarà il il derby con le Spagnol che chiude diciamo la liga prima della pausa natalizia però il 21 c'è il ritorno il ritorno con il l'Hercules il ritorno di Coppa del Re quella è la partita comunque da vincere la partita da vincere da giocare bene e da far giocare questi alcuni giocatori come Denis Suarez che ieri ha esordito in in Champions League e come tu raccontavi Alexi Vidal che ieri ha fatto un partione che Luiz Seriche l'ha riconosciuto elogiandolo per la prima volta pubblicamente ieri in conferenza stampa quindi io direi che adesso andiamo nell'altra pausa nell'ultima pausa musicale e nell'ultima ultimissima parte andiamo a vedere le direzioni di Luiz Seriche ieri sera perché sono importanti e riguardano Alexi Vidal che allontana notevolmente eh ogni tipo di di altro terzino destro che potrebbe venire a gennaio perché lui rimarrà al Barca almeno fino a giugno rientriamo subito dopo a la lenda rana che stava il campanino si lo su por a la tenda con la tenda con Una bella, mamma, Laura Marlent, un clima baller, tan lino, passa a tutto, passa, passa, passa. Seguidors, tots units fem força, són molts anys plens d'afany, són molts gols que hem cridat, i s'ha demostrat, s'ha demostrat, que mai ningú ens podrà torcer. La bella, mamma, Laura Marlent, un clima baller, tan lino, passa, 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 passa. Eccoci di nuovo rientrati qui su Radio Barza Italia Vi ricordo che è l'unica trasmissione che parla del Football Club Radiofonica che parla del Football Club Barcelona in lingua italiana prodotta dalla Pegna Blaugrana di Roma il fan club ufficiale del Barza nel centro-sud Italia condotta da giornalisti esperti preparati come Stefano Rizzo da soci del Barza come il sottoscritto e poi insomma da tifosi pegnisti il pegnista è l'iscritto al fan club ufficiale ecco io ve lo ricordo tutte queste informazioni poi le trovate sulla pagina Facebook di Radio Barza Italia o in particolare sulla pagina Facebook di la Pegna Blaugrana di Roma a breve vi daremo anche l'indirizzo del sito internet che in questa settimana andrà online della Pegna Blaugrana di Roma allora Stefano, Alexi Vidal la grande sorpresa di ieri sera una grande partita Luiz Seriche lo cita nella conferenza stampa e gli dice Alexi Vidal benvenuto sul carro della causa cioè benvenuto appunto sul carro però adesso deve dimostrare continuità quando riverrà richiamato in causa dovrà subito dimostrare il proprio valore a poche chance secondo me esatto Luiz Seriche si è detto che secondo me ha fatto una prestazione spettacolare si è concatenato per il suo gioco e si è mostrato sorpreso per il suo grandissimo stato di forma quindi possiamo dire anche perché lo dice anche la Robert Fernandez che rimarrà Alexi Vidal a gennaio e quindi non va via e quindi il Barca non prende nessuno contentissimo il giocatore che dice che finalmente il lavoro ha dato i suoi frutti ha capito come deve stare in questa squadra si è fatto un'analisi di coscienza sua e adesso insomma tenterà il più possibile del prendersi nel conquistarsi il posto aditolare noi lo speriamo perché lo stiamo aspettando da tantissimo tempo assolutamente sì potrebbe essere una valida alternativa a Sergio Roberto esattamente anche perché poi il Sergio Roberto dovrebbe anche essere utilizzato al centrocampo visto che il suo ruolo vero è quello di centrocampista e non di terzino e non di destino destro allora Stefano ci rimangono pochi Serna tu lo prenderesti no no io non lo prenderei Serna uno perché è troppo anziano uno perché viene qui non conoscendo nulla vi ritengo Alexi Vidal se vuole appunto dopo la prestazione di ieri penso che sia giusto che rimanga spero che continui come dici tu ad avere anche una continuità seria e a prendersi a essere una valida alternativa a Sergio Roberto quindi questo credo che sia la cosa migliore allora Stefano andiamo in conclusione di trasmissione andiamo con i saluti vi ricordiamo ovviamente le nostre amiche radio con cui noi poi trasmettiamo perché radio azzurra frequenza FM 106 e 70 e 700 scusate Salerno e provincia e radio movita frequenza 87 e 70 e 91 e 60 sempre Salerno e provincia prima radio Molfetta frequenza 101 e 9 di Molfetta in provincia di Bari e poi radio Andromeda frequenza FM 91 Mola di Bari sempre provincia di Bari poi salutiamo ovviamente gli amici di radio Riviera Corallo che è una radio web di dell'Alghè di Alghero io ricordo che se ci sono tifosi culess di Alghero che parlano catalano ma anche se non parlate catalano mettetevi in contatto ovviamente con la Pegna di Roma e poi Cremonia radio frequenza web anche qui è una radio web di Reggio Emilia e quindi salutiamo gli amici emiliani anche per tutti quanti chi ci ascolta da Salerno e provincia chi ci ascolta da Bari e provincia ma chi dall'Alghè da Alghero e chi appunto da Reggio Emilia dall'Emilia io vi ricordo che chiunque voglia mettersi in contatto con noi per avere notizie sul Barza sul fan club del Barza la Pegna Bloggera di Roma insomma può andare sulla pagina Facebook Pegna Bloggera Roma o quella di Radio Barza Italia oppure su Twitter chiocciolina Bloggera Roma o chiocciolina Radio Barca Ita o sul sito passionedelcalcio.it lì troverete anche le email per contattarci per esempio Pegna Bloggera Roma chiocciola gmail.com Stefano stiamo proprio alle battute finali ringrazio tutti l'appuntamento è come al solito per la prossima settimana benissimo io vi auguro ovviamente il meglio possibile il meglio al Barza arrivederci a tutti visca al Barza visca a Catalunia e visca Roma arrivederci il meglio al Barza messi 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 immens messi ancora messi, 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 ancora messi Grazie a tutti.